Siamo al calcio, turno infrasettimanale e prenatalizio per quanto riguarda il campionato di Serie C. Il Catania ospita al Massimino il Catanzaro e il Palermo invece riceve la vicecapolista Bari. Il gusto di giocarsi uno scontro al vertice in gran forma, con fiducia ed entusiasmo. Solo l'assenza del pubblico guasta la festa del ritorno al Massimino, dove il Catania oggi pomeriggio affronta il Catanzaro per una sfida che potrebbe valere anche il terzo posto in classifica. Diventato un obiettivo della squadra rossa-azzurra che non sente la pressione, anzi. Non voglio sentire questa parola perché è una parola che non mi piace. Io adoro la pressione di stare in alto, soffro quando la classifica diventa anonima. Però per pensare a stare in alto qua c'è da cavalcare tanto, in 5-6 punti ci sono 8 squadre, quindi bastano due passi fa se ti ritrovi anonimo. Dobbiamo lavorare e dobbiamo pensare soltanto a una partita. La classifica la vedremo a 6-7 giornate alla fine, quello che ci dice, e da lì cercheremo di ottenere il massimo nello sprint finale. Però bisogna pensare alla singola partita. L'allenatore Tneo recupera Pecorino, Pinto, Cleiton e Tonucci. La difesa quindi è al completo. Qualche difficoltà c'è in mezzo al campo, mentre c'è abbondanza in attacco. Anche se le condizioni di qualcuno non sono delle migliori, ma i cambi possono dare garanzie di continuità. È cresciuta la forma fisica, è cresciuta la consapevolezza, è cresciuto, ripeto, adesso resta l'atto finale di cercare di migliorare, di perfezionare questi ultimi 20 metri di gioco, ma non per colpa dei singoli giocatori, perché tanti, piccolo è rientrato adesso, Saravo ha avuto i suoi problemati che sta migliorando, Pecorino è un giocatore che sta dimostrando e deve continuare a dimostrare, deve continuare a dimostrare. Reginaldo è rientrato, ci ha dato una mano 20 minuti domenica, quindi dobbiamo sfruttare adesso al massimo il potenziale che abbiamo. È big match anche per il Palermo, che ospita il Renzo Barbera e il Bari. Boscaglia ha chiesto ai suoi di giocare senza paura e riscattarsi dopo il pareggio deludente di Vibo Valencia. 4-2-3-1 dovrebbe essere il modulo dei Rosanero, con il ballottaggio in difesa tra Somme e Lancini, mentre in attacco torna Saraniti, supportato da Canute, Rauti e Silipo. Calcio d'inizio alle 15 e dalle 14.30 appuntamento su Telecolor con Sport Sicilia per seguire insieme Catania Catanzaro con i commenti durante la gara e dopo il novantesimo.